Che bella mangiata, ci voleva. Ma ci dobbiamo solo rilassare un poco. Ma che è sta roba? Peppi, ma che fai con questa cartina? Maggio persa, sto cercando di tornare a casa. E sto facendo, ma dire che sto facendo. Prendene uno, va. Ma che cos'è sta roba? Filtro i carboni attivi, con questo aspiri meno sostanze nocive e si sente di più l'erba. L'erba? Io so, ci fumo tutto nero, fuori io lo preferisco. Te fai, ti fumo l'erba qua dentro. Ma ti pare che fumo l'erba qua dentro, me la sto rolando, ma va che fumo fuori, no? Ma non si può fumare fuori, è illegale. Queste sono regole da fare, ma io che sto venuto fuori da questo ristorante, non c'è. No, ma non mica è illegale solo in questo ristorante, è illegale in tutti i ristoranti italiani. Allora, mi uscio. Eh, ho kebab, facciamo ho kebab, cipolla e scank. Si può fare. Ma no che non è vero. Eh, tu mi confondi. Ma Peppino, fumare in Italia è illegale. È illegale? Io l'ho sempre fatto in tutta tranquillità. E non ti ha mai fermato nessuno? Voglio, polizia, carabiniera, finanza. Tutti si fu diuttile, ma è narratelo. Hai fatto la collezione? Eh, ma poi li dovevi vedere quando mi fermavano, loro precisi con bilancini. Ma mica sono multe? No, sono scondrini, quello comunque frutto e verdura. Ah, voleva rispondere, pur perché una volta in età mi fermarono, uno di loro disse, bravo, se ne tenevi di più ti davamo pure un bel premio. Tre misi appoggio al reale, Peppi, tu così rischi la galera. Eh, la galera, esagerata, la galera. Allora, te che tu fumo vinti sigaretto giorno che hanno fatto, andrà l'ergastro. Ma che c'è a sé che fumo vinti sigaretto al giorno? Fumare è illegale. Ma fumare marijuana è illegale. E fare tutte quelle cose che creano dipendenza e che fanno male alla salute. Cioè, tipo l'alcol? No, quella è illegale. Troppo d'azzardo? No, pure quella è illegale. I social? Eh, si fai troppo TikTok d'arresti. Ah, finalmente l'hanno fatto, Salicci. Ma non è vero, no, no, altre cose. Fuso, ma se a loro tutte queste cose che creano dipendenza e fanno male sono legali? Perché non legalizzano pure questa? Non sei il primo che lo dica. Effettivamente hai ragione, anche perché così si svuoterebbero le carceri. Ma pure perché ha indo fuori TikTok comunque i fan. Poi comunque si toglierebbero tanti soldi alla signora Malavita. Chi è? Una signora antipatica? Sì, molto antipatica alla signora Italia, che quindi se legalizza toglie i soldi alla signora Malavita. Che poi sai quanti posti di lavoro si creerebbero? Quanti? Non lo so, è una domanda. Tu lo sai quanti posti di lavoro? Non lo so, ma sicuramente tantissimi. O fossero un reddito di cittadinanza e facessero il reddito di fattanza. Dopo me già ho un reddito di cittadinanza e buono. Era buono. Che cosa? No, nel senso che ora non ci sta più, quindi sì, era buono ma ora purtroppo. Cosa? Peppi il reddito di cittadinanza non c'è più. Andiamo a tu reddito di cittadinanza? Eh sì. Ma nonno quanta novità brutta tutto insieme stamattina come stai andando, Danilo? Non stai facendo venire male i capi. Devi vedere tu a me, peppi. Uh, tanti. Allora devi fumare. Però dopo che abbiamo, torniamo a casa a piedi eh. Sì, sì, pure io, dopo non guido mai. No, ma pure domani eh. A piedi. A buo, rispetto con il residuo. Sì, sì. Ma pure dopo domani a piedi. Danilo, noi una canna ci hanno fatto, pare che ci hanno fatto una lobotomia. No, ma non lo dico perché, perché hanno fatto una legge mo, che se ti beccano che hai dei residui nel corpo ti ritirano la patente. Questi residui rimangano fino a un mese. Un mese. Ah. Cioè quindi io fumo oggi, tra un mese mi fermano completamente sopra e mi levano la patente. Sì. Tiendeli, io mi una curiosità, ma la prostituzione è legale? No, è illegale. E allora devono arrestare la signora Italia. Perché? Sta andando a buttare. Sì. 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 Sì.